dai che cazzo non mi fate urlare dai questo lo mandiamo tutto non mi interessa quello taglio siamo qui con Eugenio Massi che ha fatto ho vinto una Giant ho fatto non lo so volevo dire 9-0 non mi hanno intervenato quindi 6-0 al mega regionale del YCS di Londra hai giocato? vediamo la lista questi per forza 2 senza di queste il mazzo non ci fosse proprio questo 1 cattabile per la seconda design probabilmente giusto lui ha fatto top queste tipo forte ma ho giocato Big Bang perché non facevo la Locco 5 3 asce cosa forti 4 per la nena la quinta doveva essere Pathfinder ma non l'ho trovata scusa Lorenzo scusa Lorenzo 3-3 maxate per forza poi 4 questa dovrebbe essere la quinta fortissimo questo è il main perché gioco Prosperity ci sta queste sono forti queste sono forti queste vanno schifo queste sono forti dovevo giocare la terza questo probabilmente questo probabilmente giocherai tipo 2 enemy Contra non è vero mai vanno schifo con gli enemy Contra tutto schifo questo mazzo e questo è il main sono 40 carte e cambierai mazzo bravo ottima idea ottima idea io e nice poi si come un pace con la combo Locco 5 uniera perché tanto non serve no se tu hai giocato la seconda ho giocato 2 ma solo per non farmela bannare ma non ho mai evocato la seconda ma c'è assurdo ma poi anche tanto la bannavo tipo anche se me la bannavo non ero di un contente 2 xeus e 2 questi troppo fuori e 2 questa è nella carta troppo stupia c'è letteralmente ho vinto tutti i game con questi ma penso che non si sa perché sono un ultimate è diverso è diverso poi ci arriviamo 3 questi sono 3 così lui mi hai fatto tu hai fatto ma lui sa giocare poi gli manca 3 con ule quindi lo fa per questo una volta l'ho fatto vicino al tempo l'ho messo in difesa ho messo due toglie auguri ad alzarlo che cazzo è? auguri ad alzarlo auguri ad alzarlo e poi questi questo qui onestamente c'è doveva essere l'altro che spacca mostro perché questo è molto forte ho fatto un sacco di volte questo non c'è mai stato lo spot in cui mi spaccavano a rise quindi non l'ho mai fatto cioè era sempre sotto ma non forse che non avrei giocato a posto di loro boh vabbè e poi non ho due perché gioco gamma questo è fortissimo questo vabbè deve essere giocato aiuta a otta un sacco di cose gli fanno i partiti e vaffanculo no ah lui potresti potresti leggere per favore la descrizione il flavor text per favore va bene troppo fa no carta sbagliata troppo fa 3 di lungo non avrei giocato i main tu avresti giocato i main no 2 di lungo per despia state pronte per despia per lab no mai preso un lab come si chiama per l'altra quale matmeck il buy si il buy che è andato ci ha abbattuto a tutti il buy di matmeck e poi giocato ma non è nemico contro E' stato fortissimo Perché una volta Mi hanno fatto Matt Mac Aveva tipo questo Tipo Theosis E Planet E Matt Mac mi ha fatto la cosa che mi scatta uno Come si chiama? L'Ambertiano E mi ha scattato Enemy E quindi Mai pescato Ma questo qua è forte quando Matt Mac Se lo c'hai sull'effetto di cosa di Splash Ah si come il Cepala Due di questi ci stanno E tre di questi Questo qua è 100% Mirage Questo io quando ho ottenuto Ho diventato Seme Questo è il mazzo Perché non ce la avevo Considerazione E oggi è Considerazione Ma non è come sbagliato Mamma mia No Considerazione sul mazzo E' abominevole Saluto i ragazzi del Graviti Ringrazio Peppe Per favore Per tutto il mazzo Ogni singola carta che ho E' sua Quasi tutte Poi ringraziamo i ragazzi del Graviti Già fatto Lorenzo Massi e Sebastiano Pava E' una ragazza di stanza con me Giorgio Quintavalle Francesco Cosa ha fatto di udire Volpe di No No Già come sempre Daniele Stella Che ha fatto top E Davide Balbo Non è vero Va bene Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao